salve a tutti amici del team buzz oggi voglio presentarvi i nuovi mini allunghi utili da utilizzare sia per la pesca a corta distanza che a media distanza sono tre versioni e sono utilizzabili da innestare sulla seconda sulla terza e sulla quarta sezione della canna queste mini extension hanno le caratteristiche che sono molto robuste e quindi non si schiacciano e sono affidabili in più sono state progettate appositamente perché se si attaccano dei pesci di grandi dimensioni si può direttamente innestare la sezione successiva senza dover perdere del tempo a dover togliere l'estensione e metterci il pezzo successivo